Una tradizione nata nel 1972 che quest'anno festeggia i suoi primi 50 anni. Parliamo dell'immersione del Cristo degli Abissi nel lago Palù. Un'iniziativa che anche quest'anno, sullo sfondo di questo bacino alpino della Val Malenco, situato a 1925 metri d'altezza e purtroppo messo a dura prova dal caldo e dalla crisi idrica di quest'estate, la scorsa domenica ha rinnovato il sodalizio tra Associazione Valtellina Sub e Protezione Civile. Valtellina Sub ha vari settori, è nato nel 1972 dai pionieri della subacquea che hanno fatto un gemellaggio con quelli di Camogli e hanno fatto un bozzetto che riproduceva la statua che è immersa nei fondali di Camogli a San Fruttuoso e hanno fatto in concomitanza di Camogli l'immersione del Cristo degli Abissi in questo bellissimo lago Palù. Prima siamo stati in acqua a trovare il basamento che c'è nel fondo del lago, adesso abbiamo messo la boa dove c'è il basamento e poi adesso ci sarà la messa, finita la messa faremo una processione in acqua con i sommozzatori e gli apneisti e poi scenderanno i nuovi neofiti del Valtellina Sub i primi grado che hanno preso l'anno scorso con il Cristo, lo depositeranno accompagnati dagli istruttori sul basamento. Una società sportiva senza scopo di lucro, quella di Valtellina Sub che come per l'evento della scorsa domenica può contare sul volontariato dei propri soci. Tutti all'opera per una giornata iniziata con la pulizia dei fondali di questo lago emblematico per queste montagne ma che simboleggia tutta la criticità legata al dissesto climatico di quest'epoca. Pensate in 15 anni la profondità di queste acque è passata dai 16-17 metri ai 5 attuali. Il don oggi ha fatto una messa dicendo di pregare per un po' di acqua e qui effettivamente ne abbiamo bisogno perché così a occhi a croce ne mancano dai 6-8 metri. È una bella giornata, peccato che c'è poca acqua però diciamo che la manifestazione è riuscita e come sempre siamo un gruppo coeso sia come protezione civile che come Valtellina Sub. Ad ottobre poi il recupero della statuetta dai fondali in modo da preservarne la resistenza che potrebbe essere messa a dura prova dal ghiaccio dei mesi più freddi. Oggi è stata un'esperienza davvero importante e unica perché ho fatto la schirenetta nell'immersione del Cristo degli Avissi, ho fatto da apri fila con una coda da sirena e è stata davvero speciale, divertente. Pensavamo che ci fosse brutto tempo invece guarda sembra che c'è il sole solo intorno al lago Palù per questa giornata importante. Una manifestazione molto caratteristica e particolare che io ho visto quando ero piccolo con i miei nonni e oggi ho riportato i miei figli a vedere.